Gloria, gloria al Signore Secondo te che cosa può avere affascinato un giovane durante la Via Crucis che c'è stata a Venervi? I giovani secondo me sono stati affascinati dalla presenza di tanti altri giovani da ogni parte del mondo e questo è quello che mi ha emozionato, tutti quanti uniti, radicati in Cristo e saldi nella loro fede.